Gentili telespettatori, buona giornata. Ora è più pulita e la giornalista Carmen, la sorella, si mette le mani nei capelli. Imbarazzo. Roma è più pulita del passato. Indovinate un po' di chi sono queste parole. Lo avete visto nell'immagine di copertina. E' lui o non è lui? Certo che è lui. È l'ex ministro, che si è definito il miglior ministro della storia della Repubblica italiana, il mitico Danilo Toninelli, che su Rai 3, nella trasmissione Agora, ha lasciato tutti a bocca aperta. E dice così, il genio grillino. I bilanci che ha ereditato Virginia Raggi, cinque anni fa, oggi ricevono gli attestati di fiducia delle migliori agenzie di rating. Le strade sono rifatte. C'è più legalità e più pulizia. Pulizia. Quindi, strade nuove, legalità, pulizia. Sarà come Bolzano? Sarà diventato come Trento? O sarà pulita come Bruxelles? Copenaghen? Oslo? No. E così la giornalista Carmen, la sorella, si è messa le mani nei capelli, ma non metaforicamente, realmente. Le immagini di lei in televisione hanno, con le tristezze, parlare di pulizia... Così, la sorella, Carmen, dice, beh, parlare di pulizia a Roma mi pare uno simoro. Sono stata via solo qualche giorno e quando sono tornata lo stato della città era indecente. Indecente. I cassonetti traboccano con questo caldo, poi, ma il mitico Toninelli non fa alcun passo indietro e dice l'amministrazione di una città come Roma è complessa. Ma è chiaro che c'è un più davanti al bilancio della gestione della società. Vivo a Roma da otto anni e la situazione è notevolmente migliorata, dice il leggendario ministro, ex ministro italiano. E così, il batti e ribatti va avanti per un po'. La giornalista, sempre più contrariata, dice Non sono assolutamente d'accordo. Come dire... Tony, Tony, ascolta. Il dover difendere a tutti i costi l'incompetenza di una collega non fa altro che rimarcare che voi dei Cinque Stelle difendete a priori i vostri. E questo fa vedere una mancanza totale di obiettività, di imparzialità. È un po' come il dibattista che difende la raggi perché è un'amica di famiglia. È ridicolo. Qui c'è una sindaca favolosa, cioè da favola, no? Le favole, quelle che legge i bambini. C'era una volta la sindaca Raggi, che pulì tutte le strade della capitale e non contenta, pulì tutte le strade d'Italia. Non contenta. Anche quelle, tutte quelle d'Europa. Pagina 2. Ecco, per il Dibba è una sindaca favolosa e per Conte, Giuseppi, sicuro vince lei. E Toninelli vede cose che noi, semplici cittadini, non possiamo vedere. Lui, che vive lì da otto anni e mezzo, ha visto un cambio epocale a Roma, epocale. E della notizia, lì, Tony dice che le strade sono diventate perfette. La notizia di ieri mattina è che Michetti, con un taxi, quasi si ribaltano con una buca. Michetti il candidato sindaco di centrodestra. Per questo che vi dico che Toninelli vede cose che noi umani non potremmo neanche immaginare. Strade pulite al largo dei bastioni di Orione. Toninelli vede i raggi gamma e i raggi beta balenare nel blu, alle porte di Tannoyzer. Purtroppo, tutte le cose che vede Toninelli andranno perdute, come lacrime nella pioggia. Perché è a fine secondo mandato e perderemo un politico di questo spessore enorme. Io faccio un appello a Conte, capo dei 5 Stelle, anche a Giuseppe Piero Grillo, il comico genovese. Non mandatevi a Toninelli, non privateci del Danilo, non lo fate. La politica perderebbe un qualcosa di leggendario. L'ex ministro ha poi citato la trasmissione Rai Report che si è occupata dell'inchiesta su alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. E c'è lì presente anche Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. Dice, attenzione a quelle affermazioni, attenzione a quello che stai dicendo, perché se parli di alcune cose, e poi non ci arrivi, dice, siete in... Come ha cominciato una sorta di diatriba. E la Luisella Costamagna, poi per riportare Oldie nella trasmissione, ha dovuto chiudere qualche microfono. Beh, io mi chiedo, capisco che le trasmissioni debbano fare audience. E invitare una leggenda come Toninelli, ovviamente, la gente si ferma, dice, stavo facendo zappi, c'è Toninelli, aspetta, non cambiare canale, aspetta, sentiamo che cosa dice il ministro migliore che la Repubblica abbia mai avuto. Capisco che invitare un Toninelli fa audience, però non invitatelo nelle trasmissioni di approfondimento politico, invitatelo, non so, a striscia la notizia, a scherzi a parte, invitatelo in una trasmissione gaudiosa, allegra, ma non a parlare di politica, a far divertire gli italiani con tutti i temi che possono essere di attualità. Potrebbero chiamarlo, non so, come opinionista. Chiamatelo, al posto che la Letizetto, Fabio Fazio potrebbe avere Danilo Toninelli. No, ve lo vedete lì Toninelli con le gambe accavallate lì, su esulto sul tavolo, che gli fa Fabio Fazio, Fazio Fazio. Ecco, io vedo Toninelli con un futuro con Fabio Fazio. Vabbè, a parte gli scherzi, che poi non sono troppo scherzi, nel senso che Toninelli, non chiamatelo per chiedergli cose di politica, per fare audience, mandatelo in altre trasmissioni, mandatelo al Grande Fratello Vip, e Toninelli sarebbe fantastico. L'isola dei famosi o il Grande Fratello, per Toninelli potrebbe diventare anche il conduttore di questi programmi. Al posto che Simona Ventura gli mettiamo Danilo Toninelli. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Ciao Danilo, una leggenda, number one. A presto. Grazie a tutti.